Elaborare presto un piano straordinario di reclutamento del personale per garantire le migliori risposte assistenziali a chi si rivolge all'AS di Salerno. A chiederlo in una conferenza stampa che si è svolta questa mattina presso la sede dell'AS di Vianizza, sono stati rappresentanti delle organizzazioni sindacali che hanno dipinto una situazione di grande allarme dell'azienda sanitaria sanitana in cui si assiste allo svuotamento di personale da tutte le strutture, un crescente afflusso di pazienti in una proporzione destinata a crescere in vista del periodo estivo. I tempi d'attesa nei pronto soccorso si allungano sia per gli utenti che richiedono prestazioni semplici, sia per quelli che necessitano di ricovero. Hanno ribadito nel corso della conferenza dei rappresentanti sindacali che hanno ricordato anche come l'inadeguatezza degli spazi e delle attrezzature, lo stress sui dipendenti, finisca spesso anche per generare reazioni violente ed aggressioni sui lavoratori. Per questo la richiesta lanciata oggi di prevedere da subito misure straordinarie per adeguare gli organici. Se vi viene l'estate, viene l'estate in un'azienda dove l'anno scorso ci sono stati 450 pensionamenti, quest'anno se ne prevedono 550, 400-450 ordinari e gli altri forse per la quota 100, per cui in due anni si sono persi circa mille unità e sono state effettivamente sostituite molto parzialmente nell'ordine del 20-25%. Le parti a rischio sono un po' tutti, sostanzialmente soprattutto nei presidi di Nocera, Pagani e Eppoli perché lì c'è la maggior concentrazione, però non ci dimentichiamo che ci stiamo affrontando l'estate e quindi i presidi che andranno più sotto stress saranno quelli di Vallo e quelli di Sapri. Abbiamo richiesto come CGLC su The Will di avere contezza riguardo alla situazione proprio della criticità del personale, soprattutto del sanitario, perché come il discorso della criticità si riverbera nei nostri presidi ospedalieri da nord a sud, dove c'è una domanda di salute continua e i cittadini non devono aspettare, hanno necessità di avere risposte concrete e veloci.